In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sialo dato a Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Carissimi fedeli, siamo di nuovo qui per il commento del Vangelo di domenica prossima, che è la seconda domenica dopo Pasqua, secondo il Vetus Ordo. Il Vangelo di domenica prossima è quello del Buon Pastore, cioè il brano del Vangelo di Giovanni del capitolo 10 dal versetto 11 al versetto 16. Potrei anche leggerlo perché è breve, non porta via molto tempo. In quel tempo disse Gesù ai farisei, io sono il Buon Pastore. Il Buon Pastore dà la vita sua per le sue pecore. Il mercenario, colui che non è pastore, al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo e abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde perché è mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il Buon Pastore e conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le mie pecore. E do altre pecore che non sono di questo vile, anche queste devo condurle, e ascolteranno la mia voce e si farà un solo grecce e un solo pastore. Carissimi fedeli, qui il Signore applica a se stesso una categoria ben conosciuta in Israele. I profeti avevano parlato del Pastore, cioè del Messia come Pastore. Il futuro Messia sarebbe stato il Pastore d'Israele. In più, sempre i profeti avevano chiamato il popolo di Israele come il gregge del Signore. Quindi non sono espressioni nuove per gli ascoltatori di Gesù o per coloro che leggono il brano del Vangelo che noi stiamo commentando, specialmente gli ebrei. Sapevano molto bene dall'Antico Testamento che stava parlando del Messia Pastore. e del popolo di Israele come gregge. Però il Signore, Gesù, aggiunge delle particolarità in più. Per esempio dice, io sono il buon pastore. Intanto applica a se stesso questa categoria. Io sono quel pastore che è stato preannunciato. Cioè sono il Messia Pastore, ma sono anche il buon pastore. Utilizzando questo aggettivo buono, il Signore, nella lingua greca, questo aggettivo ha un significato molto più ampio che nella lingua italiana. Per noi buono significa una persona mite, una persona che vuole il bene degli altri. invece nella lingua greca ha un significato molto più ampio, dicevo prima. Cioè significa santo, significa vero, significa autentico, significa proprio quello che ci voleva, insomma, quello che la gente aspettava. Quindi dice molto di più quello vero, potremmo dire, no? Quello buono, quello vero, quello santo, quello giusto, quello che corrisponde ai disegni di Dio Padre. Perché? Perché ce ne sono altri di pastori che non sono altrettanto buoni, altrettanto veri, altrettanto giusti. Li chiamerà mercenari. Ecco. In più aggiunge un'altra particolarità. È vero che Israele è il greggio del Signore, ma qui, in questo brano, c'è una novità. E dice che a questo greggio si dovranno unire altri che per il momento non ne fanno parte. E sarà un solo greggio e un solo pastore. Sta dicendo che i confini di questo popolo vanno ben oltre ai confini di Israele. E il suo regno, praticamente, abbraccerà il mondo intero di tutte quelle persone che ascolteranno la sua voce e lo seguiranno. Tutti potranno fare parte di questo greggio anche se non sono ebrei. Quindi l'universalismo della salvezza che Gesù viene a proporre. In questo brano c'è anche una bella critica verso i falsi pastori, ecco, verso i falsi pastori del suo tempo, che vengono chiamati mercenari. Sono persone che lo fanno per interesse personale. A loro non importa la sorte delle persone, la sorte del greggio, la sorte delle pecore. A loro interessa il tornaconto, che può essere il loro buon nome, può essere un tornaconto economico, può essere una carriera, uno stato di vita che si vuole mantenere e conservare. Insomma, a loro non interessa del greggio. Se il greggio è in pericolo, fanno presto. Piuttosto di non rimetterci, lo abbandonano a se stesso. Ecco, quindi il Signore ci sta dicendo che, sta dicendo alle persone che lo ascoltano, state attenti a scegliere il pastore giusto, perché adesso potete scegliere. Avete davanti a voi il vero pastore e avete davanti a voi anche i mercenari. Scegliete adesso. Gesù pronuncia questa parabola, questa immagine, annuncia questa immagine applicata a se stesso proprio nel terzo anno della vita pubblica, e cioè poco tempo prima di subire poi la passione e la morte. Quindi sta dicendo agli abitanti di Gerusalemme, alle persone che lo ascoltavano, avete ancora il tempo per decidervi da che parte volete stare. Avete davanti il buon pastore. Tra l'altro l'immagine del buon pastore è bellissima. Noi possiamo immaginare anche con la mente, perché forse non abbiamo nessuna pratica di pastorizia, o è una realtà molto lontana da noi. Per alcuni di voi è vicina. Io sto pensando a quelli che vivono in Sardegna, quelli che vivono anche in altre parti d'Italia, dove la pastorizia è molto praticata. Ma per tanti di noi ci si può andare con la mente e pensare a queste solitudini, i pascoli immensi sulle montagne, sulle colline, e questi pastori da soli, in mezzo a questa natura vasta. Per loro le pecore sono praticamente la loro compagnia, fanno parte della loro vita. Tra l'altro sono un genere di animali, talmente fragile, talmente debole, e nello stesso tempo così docili ai richiami che stimolano nel pastore tenerezza, tenerezza e anche sollecitudine nei confronti dei pericoli che ci possono essere, specialmente quando questi pericoli possono essere un lupo, un'altra bestia feroce che potrebbe divorarle, potrebbe anche disperderle e metterle in pericolo. Quindi il vero pastore è quello che si è talmente affezionato alla vita del gregge che lo difende a costo della propria vita. Io direi che il discrimine, cioè la differenza più grande tra il pastore vero e i mercenari, sta proprio in questo, nel dono della propria vita. darebbe la vita per salvare anche una sola di quelle pecore del suo gregge. E questo diciamo che se forse nella realtà non è possibile trovare un pastore così, è possibile se questa immagine è riferita a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha proprio, ci ha amati al punto da dare la propria, la sua vita per riscattarci. Questo lo ha fatto nel sacrificio della croce, questo lo fa continuamente nella celebrazione della Santa Messa, che è il perpetuarsi del sacrificio della croce nell'oggi per noi. Ecco, quanto amore, quanta delicatezza, quanta sollecitudine, quanta tenerezza ha Gesù Cristo per le sue anime. E guardate, non in senso generale, no? Tutto il gregge preso nel suo complesso, ma in senso proprio individuale, una per una. Le nutre e si cura di ciascuna di loro. Non le abbandona neanche davanti al più terribile dei pericoli. Questo è il rapporto che Lui vorrebbe avere con ciascuno di noi. Ma noi non siamo sempre quelle pecore docili, che ascoltano, che seguono, che saltellano nel prato, ma non si allontanano dalla sua presenza. Dobbiamo veramente imparare ad essere pecore così, che lo riconoscono dalla voce, hanno questa intimità per cui riconoscono la sua voce in mezzo a quella di tanti altri, dei falsi pastori, no? Ormai sanno riconoscere la presenza di Gesù. Per esempio, nell'Eucaristia, ricordate i due discepoli di Emmaus che improvvisamente lo riconoscono allo spezzare del pane. lo riconoscono nella propria coscienza, nella propria vita. Ecco, devi instaurarsi questo meraviglioso rapporto, carissimi fratelli. Ma prima il Signore ci pone davanti. I mercenari, li vedete anche voi quali sono, nella nostra epoca, nei nostri anni, oggi quanti mercenari, pastori che si sono resi invisibili al gregge, sono scomparsi, e magari se c'è qualcuno da punire, puniscono quello giusto. Proprio hanno stravolto il loro compito di pastori, perché non erano pastori. non sono entrati dalla porta che è Cristo, sono entrati da altre aperture, non sono entrati dalla porta che è la croce di Cristo, che è il Vangelo di Cristo, ma da altre aperture, e hanno sconvolto e disperso il gregge. Ora noi dobbiamo riunirci, Gesù ci sta riunendo per gli ultimi tempi. Impariamo ad ascoltare la Sua voce, a rimanere legati e vicini a Lui, che Maria Santissima ci aiuti e a compattarci tutti quanti intorno al nostro Maestro e Pastore, il vero Pastore delle nostre anime, sia lodato Gesù Cristo, in nome dei Patris e i Fili e Spiritus Santi. Amen.